L'artigianato toscano di qualità, all'eccellenza del nostro territorio e ad Expo, come si può evincere dal prossimo servizio. L'artigianato toscano sbarca all'Expo, una sei giorni interamente dedicata a questa vera e propria arte, a Milano nell'ambito di fuori Expo, dal 6 all'11 ottobre. Un'arte che nella nostra regione è ancora considerata una delle più grandi eccellenze offerte. E' l'occasione nella quale condivideremo le esperienze tutte sescane, quella dei maestri artigiani istituiti a un legge regionale che stanno avviandosi ad una messa a regime di questa opportunità che consente e tenta di tutelare e mantenere la presenza di grandi competenze e manualità che nella nostra regione sono presenti e che costituiscono la possibilità di trasmettere dei saperi altrimenti non tutelati. Penso alla lavorazione delle pietre dure, all'intalzio, all'intaglio, al restauro. Sono tecniche che sono preziosissime anche per la tutela del patrimonio artistico. Tutti i giorni verranno dunque approfonditi un tema e un prodotto della buona tavola e poi presentati i vari laboratori su un prodotto tipico dell'artigianato artistico toscano. Dunque dalla cucina agli atelier per valorizzare e far conoscere ancora di più la Toscana nel mondo. Sarà in più anche l'occasione per mostrare dei percorsi. L'artigianato si è fatto parte attiva di una valorizzazione di nuovi e non scontati percorsi attraverso la Toscana nelle quali tenteremo di avvicinare il visitatore turista non solo a luoghi meno conosciuti ma anche alla possibilità di visitare laboratori e botteghe artigiane con occasioni di conoscenza, di incontro, di scambio, di acquisto, perché no? Quindi uno ulteriore percorso che farà valorizzare la parte della Toscana meno apprezzata fino ad essere meno conosciuta, la nostra vera carta in più per gli anni a venire.